Il continuo sproporzionato aumento del costo dell'energia, l'introvabile anidride carbonica per la filiera agroalimentare, situazione senza dubbio delicata. Il grido d'allarme lanciato da Franco Pescara, segretario generale della FAI CISL Abruzzo Molise. La politica si deve svegliare. Il settore agroalimentare in difficoltà. Franco Pescara, voi come FAI CISL siete preoccupati? Siamo preoccupati, diverse aziende hanno già fermato dei turni e fortunatamente abbiamo dei tecnicismi contrattuali per cui fino adesso non c'è ricorso alla cassa integrazione. Se le aziende si fermano c'è un vero rischio, proprio adesso io ho ricevuto una notizia che un'azienda è intenzionata a non accendere il riscaldamento tra qualche mese e c'è fermento nei lavoratori. Quindi non aspettiamo che sia troppo tardi, bisogna intervenire subito, quindi noi chiediamo anche ai candidati un confronto. Bollette, costi dell'energia, mancanza di anidride carbonica, insomma la filiera agroalimentare abbiamo detto, questa è la premessa doverosa e in crisi in questo momento. Tra l'altro c'è anche da considerare l'impatto enorme della pandemia e l'effetto della guerra. Certo, certo, certo. Purtroppo delle volte bisogna sospendere i turni perché giustamente come diceva lei l'anidride carbonica, che non serve solo per la bevanda gasata, anche per raffreddare gli impianti, è difficile da reperire. E quindi c'è un rischio forte di fermarsi. Stiamo vivendo una situazione paradossale. Cosa può fare la politica regionale nello specifico? Insomma, intanto le chiedo se sta ascoltando le vostre istanze. Guardi, io le cito un esempio sulle nostre istanze. Noi abbiamo una risorsa fondamentale, importante, che è l'acqua. E abbiamo un'azienda a canistro che è ferma da ben sei anni, sei anni e mezzo. Per questioni di bandi e lacci e laccioli. Noi chiediamo che la Regione, ma gliel'abbiamo già chiesto tante volte, di vederci, di incontrarci per fare in modo che quell'azienda riparta. Perché quella è un'azienda importante. Così come è un'azienda a popoli che tra l'indotto ha 500-600 persone, quella è ferma. E non possiamo permetterci. Quindi alla Regione chiediamo anche di snellire questa burocrazia, che significa ripartire e dare lavoro a delle persone. Loro rappresentano le istituzioni, giustamente. Noi rappresentiamo i lavoratori. Se si ferma il lavoro sono dolori e forti.